Ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo nuovo video. Oggi andremo a fare il video che ha come titolo un messaggio dalle stelle, appunto per ogni segno zodiacale. Vi ricordo che è sempre un interattivo, prendete tutto con cautela e adattatelo sempre alla vostra situazione. Vi ricordo sempre di ascoltare il segno relativo al vostro ascendente, il segno in cui si trova la luna per tutto quello che riguarda l'emozione, il segno in cui si trova giove per quanto riguarda il lavoro, il denaro, la carriera, le ambizioni, gli obiettivi e ciò che si realizza in maniera concreta. E anche il segno in cui si trova venere per quanto riguarda l'amore, l'amicizia, i rapporti con le persone, con il prossimo che conoscete o che andrete a conoscere. Vi ricordo anche che sotto ogni video trovate il link dove potete visionare i mazzi di carte che io ho creato e anche il mio contatto whatsapp dove potete chiedermi informazioni per quanto riguarda un consulto privato con me oppure chiedermi anche un consulto per quanto riguarda la vostra data di nascita per avere un qualcosa di più approfondito. Mi contattate e io vi spiegherò modalità e come si svolgerà questo consulto perché in poche parole è un consulto però è legato alla data di nascita per sapere più curiosità e più caratteristiche sulla vostra persona e su ciò che siete destinati a fare. Cos'altro dirvi prima di iniziare segno per segno vi ricordo di lasciarmi come commento il vostro nome e la data di nascita se volete un video come quelli che trovate sul canale l'unica pecca è che dovete aspettare la messa online della vostra data perché siete veramente tanti. Allora iniziamo subito con il primo segno. Eccoci qua con gli amici del leone vediamo che cosa abbiamo per gli amici del leone qual è il messaggio dalle stelle per voi vediamo un po' che cosa abbiamo allora vediamo un po' il messaggio per il leone vediamo come inizia questo messaggio dalle stelle abbiamo abbraccia chi ti circonda sei in un momento di grande crescita spirituale è quindi fondamentale che tu sia circondato da chi ti ama e condivide le tue convinzioni sii disponibile ad accettare l'aiuto degli altri potrai trovare conforto in soluzioni tradizionali oppure il tuo cuore potrebbe sentire il desiderio di sperimentare approcci diversi perciò molti leone si troveranno a fronteggiare situazioni in modo tradizionale ci sono delle difficoltà che dovete affrontare in questo periodo questo vi dice il messaggio per una crescita personale per una crescita spirituale però molti di voi la vorranno affrontare in modo tradizionale e molti di voi in modo anticonvenzionale vediamo un po' ci potrebbe anche essere bisogno dell'aiuto di qualcuno magari qualcuno di cui vi fidate o dell'affetto semplicemente della vostra famiglia e dei vostri cari vediamo cos'altro c'è per il leone vedete abbiamo la carta dell'ancora la carta dell'ancora è una carta bellissima perché mi parla di lavoro, di equilibrio, di stabilità, di sicurezza di impegno appunto di impegno per trovare questa spiritualità di mete raggiunte finalmente troverete la chiarezza di sicurezza e speranza di piena fiducia in voi stessi di un equilibrio raggiunto grazie alla volontà e al controllo della situazione o potrebbe anche trattarsi che vi annunciano il ritorno di qualcuno amici del leone vediamo un po' che cosa c'è a livello delle vostre emozioni vediamo che cosa abbiamo a livello di emozioni solitudine, isolamento, necessità di riflettere trovare una scusa gli amici del leone devono starsene un pochettino da soli devono trovare un attimo per ricongiungersi con loro stessi e questo è un periodo di solitudine di cui hanno bisogno gli amici del leone stare da soli con se stessi perché appunto hanno bisogno di ritrovare le idee ritrovare le proprie emozioni e prendere le giuste decisioni sia per il lavoro sia per tutto il resto sentimenti, famiglia e tutto ciò che riguarda le situazioni e la vostra vita allora vediamo cosa ci dice conoscersi meglio questa situazione richiede un maggiore approfondimento cercate di comprendere meglio le vostre sfaccettature caratteriali se parliamo di coppia ma anche se parliamo di persone singole nel senso che qui c'è bisogno che gli amici del leone si trovino in un confronto con loro stessi o col partner o con qualsiasi altra situazione si trovano a dover fronteggiare in questo periodo c'è bisogno appunto di molta molta chiarezza per gli amici del leone c'è bisogno di molta chiarezza appunto vediamo un po' che messaggio hanno le stelle per il leone vediamo che messaggio hanno le stelle per il leone perdono magari non è un perdono che dovete ad altri o a qualcuno ma è un perdono che dovete a voi stessi o magari c'è appunto un perdono da chiedere amici del leone vedete avete bisogno di tempo avete bisogno di tempo appunto da passare in solitudine avete bisogno di tempo per conoscere meglio ciò che volete realmente e trovare una sicurezza in voi stessi appunto per poter andare avanti con questa solitudine con questo conoscersi meglio troverete proprio la vostra forza e qui appunto mi apparite voi secondo me qua i leoni hanno bisogno di un periodo di isolamento perché c'è una situazione abbastanza articolata che devono un attimino cercare di fronteggiare devono cercare di prendere il controllo su ciò che stanno vivendo e su come stanno vivendo per appunto fare chiarezza c'è bisogno di chiarezza la parola chiave per il leone è la chiarezza chiarezza di sentimenti chiarezza di tutta la situazione che state vivendo da tempo prima di tutto vi dovete perdonare voi perché magari state facendo un qualcosa che va contro il vostro modo di essere magari state soffocando qualcosa e c'è bisogno appunto di trovare un equilibrio di trovare appunto un controllo in questo caso la carta del controllo è una carta molto positiva vedete qui mi parla del cavaliere di coppe proposte romantiche offerte inviti intraprendere azioni seguire il cuore attrazione appuntamenti affetto l'uomo la donna ideale un giovane amabile intelligente e pieno di nuove idee e proposte qua secondo me dovete fare chiarezza dentro di voi per quanto riguarda una situazione sentimentale e chiedere perdono a qualcuno con il quale non vi siete comportati al meglio leone da parecchio tempo vedete qua pugnalate alle spalle tradimento magari qualche leone potrebbe anche scoprire un tradimento maldicezza amarezza zerbino fallimento rovina qui secondo me per gli amici del leone si prospetta un periodo molto ricco nel senso che magari scopriranno un tradimento che non si aspettavano e di conseguenza questo tradimento gli farà aprire gli occhi e si renderanno conto che si sono comportati male con qualcun altro vedete c'è un periodo di sofferenza strazio di nuovo tradimento qua secondo me c'è un tradimento che viene scoperto e c'è una sorta di sconvolgimento e addirittura un periodo di confusione una confusione che però poi ritorna a essere di nuovo controllata perché viene fuori la chiarezza la chiarezza di sentimenti che erano stati magari repressi vediamo apprendere apprendere capire lavoro di squadra determinazione riconoscimento e ricompense di quello che vi spetta secondo me perché qua sicuramente riuscirete a capire cosa avete sbagliato e cercherete di correre i vari pure e abbiamo come come bellissima carta che si sposa con la chiarezza le stelle speranza riconoscimento ispirazione creatività calma contentezza rinnovamento io penso che questo perdono vi verrà concesso amici dei gemelli perché abbiamo giovamento tranquillità divertimento fiducia nel futuro felicità promessa però qui dobbiamo prima passare da un periodo un pochettino così di di strettezza e di di scoraggiamento per poter realmente capire quelli che sono questi sentimenti che sono stati un po' repressi perché voi pensavate di fare la cosa giusta nel modo giusto invece no qua c'è qualcuno che vi sta pugnalando alle spalle e voi ancora non ve ne siete resi conto amici dei del leone e abbiamo bisogno appunto di questo periodo di sofferenza fra virgolette perché non vedo una grande sofferenza vedo più una sorta di delusione del segno del leone dove ritroverete il controllo ritroverete la vostra forza e la mente si aprirà a una chiarezza che fino a questo momento magari non è che non sapevate ma avevate tenuto scusate avevate tenuto chiusa in un in un bel in un bel cassetto amici del leone vi aspetto nei commenti fatemi sapere se vi ritrovate nella mia lettura io vi ringrazio vi saluto e ci vediamo al prossimo video grazie a tutti